Ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale Bene siamo su Assassin's Creed Syndicate pronti per una nuova missione E se i Blighters qua non mi rompono la intro magari io riesco anche a dirvi quello che possiamo andare a fare Allora ci siamo lasciati la scorsa volta con Eevee se non erro Che si è fatta sfuggire la Sindone dell'Eden dopo un bello scontro con Lucy Thorn E adesso siamo nei panni di Jacob per la nuova missione che ci aspetta Quindi ma dopo esserci visti Starric che si gustava il suo bel tè Bel tè più buono proprio non ce n'è Quindi ooo aia pezzo di fango aio pezzo di fango ancora due volte Oh ma sti cavalli sempre in mezzo stanno Oh Madonna E mo come mi trovate eh Blighters Ah Sono saliti su La volete fare? Eh La vuoi fare? Eh 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 La la Aia Oh brutto contro brutto Eh L'altro moribondo Eh E muoric Così da bravo Scusate ragazzi ma Sono sempre davanti alle ballesti qua Intanto ho fatto rifornimento di medicinali Quindi Siamo apposito Per lo so di non farmi troppo male No infatti Oh una carrozza in fiamme raga Mi sa che c'è passato Natsu Qui è passato Natsu Stava talmente male ha bruciato Il La carrozza Livello 5 suggerito E noi siamo già di livello 5 raga Perl Attaway Non importa Tutti hanno un prezzo Vi bastano? Io non voglio uccidervi Oh oh E allora che volete? Eeeh Sapessi Quindi Quindi Cioè la sorella si rimorchia un assassino E lui cerca di rimorchia una milf A quanto pare E bravo Jacob Fry Certo non si preoccupi Signorina E la gente non guarda dove attraversa Sorpasso E andiamola a salvare Andiamola a salvare Coraggio Dai però Cavallino Su Dai che appena lo abbiamo Sotto tiro Olè Aspetto Anemia Non Sotto An planeta Man Non Piot stared Ch rose Fin D ok ce l'abbiamo fatto subito ad ucciderlo ah ok oh le va bene ce lo lasci pure signorina ci pensiamo noi no 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 ma se la combattiamo ahia ahia fatta un secondo salva l'autista di hathaway in fuga e non l'avevo fatto boh ok manca lui là ehi dai spingi 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 adesso è tutto pronto incendiamolo da dieci secondi nove otto oh che bei fuochi d'artificio è capodanno nooo oh per voi ah mannaggia solo per le coso lì di hathaway vaa bene ragazzi io direi che per oggi possa essere tutto per quanto riguarda per quanto riguarda le missioni ottenuto il cucri un nuovo cucri intanto mi scrivono su whatsapp intanto vediamo un attimo la mappa oh abbiamo questa missione qua io direi di andarcela a fare e tanto è qui vicina questa è stata molto breve questa missione qua di hathaway ci troviamo direttamente lì ragazzi qui